ecco il lavoro che ho fatto con questo punto che è il punto tessuto o il punto pieno ad uncinetto tunisino e questa volta l'ho fatto bicolor ed è venuto veramente carino carino adesso vi faccio vedere come farlo con altri due colori quindi potete scegliere i vostri colori ho scelto questi due vi faccio vedere come realizzare questo punto inizierò con il verde e avvierò un numero di catenelle x qualsiasi perché non è un punto che ha bisogno di un numero di catenelle multiplo di qualcosa adesso andiamo non qui ma qui e entriamo con l'uncinetto prendo il filo e lo tiro fuori e lo faccio così per tutte le catenelle quindi entrò nella catenella prendo il filo e lo tiro fuori adesso prendo l'altro colore e torno indietro metto il filo sull'uncinetto lo passo sotto la prima maglia e poi lo passo sotto due maglie la prima quella fucsia e poi quella verde e faccio così per tutto il giro di ritorno quindi lo passo sempre sotto due maglie carico il filo e passo sotto ora che sono rimasta con una sola maglia sull'uncinetto devo tornare indietro e torno indietro sempre con il filo fucsia salto le prime due maglie entro dentro queste altre e passo proprio in mezzo vedete qui dentro quindi non prendo la maglia in questo modo ma entro dentro e tiro fuori il filo quindi entro qui e tiro fuori il filo cioè faccio proprio il punto pieno o punto tessuto qui è l'ultimo ok dopodiché prendo le ultime due maglie insieme e le lavoro per tornare indietro riprendo il filo di prima quindi quello verde per quanto mi riguarda e torno indietro come al solito quindi lavorando prima una maglia e poi a 22 torno indietro sempre con lo stesso filo e entro questa volta tra le prime due maglie quindi proprio qui faccio la stessa cosa per tutto il giro non entro nelle ultime due maglie ma prendo direttamente la maglia finale torno indietro cambiando filo cambiando colore prima una maglia e poi a 22 ecco qui questo è il punto finito ne ho lavorato un po' per farvi vedere anche con questo colore come veniva e è veramente bello carino a me piace molto questo punto qui ed anche questo video finito vi ringrazio di avermi seguito e ci vediamo al prossimo video vi ringrazio di avermi seguito